Buonasera a tutti gli intervenuti, vi ringrazio per aver accorto l'invito dell'Associazione Culturale Aldomoro, io sono Giovane Presidente, sono Giovane Zaccaria, vi invito a seguire anche i nostri prossimi eventi tramite la pagina Facebook e le attenzioni pubbliche che si trovate nelle nostre vie cittadine. L'evento di oggi stamattina è stata in collaborazione con l'Istituto Einstein Media di Loreto, ringrazio il Presidente Torquati perché certi messaggi che loro vanno esaminati, i ragazzi di oggi saranno i giorni di domani, il futuro. Mi fa un piacere altresì fare l'evento di oggi con collaborazione di loro e dei giornalisti delle Marche, ringrazio in tal senso il Presidente Risei, ricordo che l'evento di oggi conferisce, attribuisce i tre crediti formativi per l'aggiornamento professionale, in riguardo al pensiero personale, alla luce dei recenti accadimenti, se mi permettete, che hanno colpito il giornalismo in Italia, vedi Ostia, vedi l'aggressione alla Repubblica, dico che non vi è democrazia senza una stampa indipendente, non vi è democrazia senza delle voci libri, ecco, se mi permettete questo. L'evento di oggi, intitolato Le paure dell'Europa di oggi e le prospettive per il futuro, è con il Dottor Stefano Colli, vice direttore dell'ANSA, docente di giornalismo europeo alla Università Pulonsa di Roma, ricordo che Stefano Colli è stato anche inviato speciale nelle due guerre del Golfo, nella guerra dei Balcani, numerosi suoi libri in tema d'Europa e se non erro anche un libro, un romanzo oltre il mare ambientato in America Latina. Ecco, a segno del dibattito vi sarà, il dibattito sarà anche coadivato dal Dottor Italo Rodanoni, noto giornalista loretano, ex-ordunzman Marche, per la tutela dei diritti dei carcerati. Ringrazio coloro che hanno reso possibile l'evento di oggi, senza i quali dobbiamo essere qui, Fondazione Opre Laica, Fondazione Carino, il Comune di Lorena e la persona del sindaco dottor Paolo Nicoletti e l'assessore Luca Mariani. Adesso do la parola al Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Elisene. Grazie dell'invito, grazie il tuo che mi ha chiamato e devo dire che queste iniziative sono iniziative che sono assolutamente apprezzabili, anzi se continuano sono ben volute e quindi ben accolte anche dall'Ordine, anche perché non vuole essere un ordine, questo delle Marche, non vuole essere un ordine solo burocratico che purtroppo deve svolgere anche manzioni amministrative, ma vuole essere assolutamente un ordine partecipato e partecipativo, quindi anche noi diciamo di propria iniziativa faremo degli incontri e speriamo che siano di alto livello come quello di questa sera, con quello che si pronuncia questa sera, su un tema con soprattutto con operatori di eccellenza come Stefano, ma anche su temi che sono di grande attualità e con tutto quello che sta succedendo in Europa e credo che l'Italia appunto non debba può solo guardarsi internamente ma dovrebbe anche confrontarsi e spaziare l'orizzonte per capire molte cose anche nell'Europa. Grazie dell'invito e buon lavoro a tutti. direttore. Grazie. 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 Come vuole lei? Salve a tutti. Grazie per essere qui. Avete affrontato la pioggia che c'è su Via dei Coronali. Per me è un grande piacere di stare qui. Questa è una zona d'Italia che amo molto, mi piace moltissimo, è una parte d'Italia molto attiva, molto vitale, ha gente che si dà da fare, era un po' che non venivo, quindi sono molto contento. Quindi ringrazio per l'invito, ringrazio tutti, ringrazio i colleghi di Italo, di Italo, il comune di Loreto. Io vorrei parlare non molto, vorrei dare tre o quattro spunti, qualche idea sulla situazione dell'Unione Europea e dell'Europa, poi se vi va facciamo qualche domanda, risposta, parliamo tra di noi. Io penso che bisogna parlare, come si parla di Europa, di Unione Europea, dobbiamo sempre cominciare da un punto dal quale non si comincia mai in realtà, e cioè dal mondo, in quale mondo viviamo, perché l'Unione Europea, siamo in era della globalizzazione, e l'Unione Europea in qualche modo approfitta dei vantaggi ed è vittima degli svantaggi della globalizzazione, che sono tanti. La globalizzazione non è soltanto trovare lo stesso tipo di telefonino qui a Buenos Aires, a San Pichino, vedere i ragazzi con lo stesso paio di jeans qui in Islanda e in India, è molto di più. La globalizzazione è soprattutto culturale ed economica, e non sempre nel senso oppositivo. Per cui, siccome siamo tutti consapevoli che c'è una crisi europea molto profonda, una crisi economica, una crisi politica, una crisi sociale, una crisi, vorrei dire, di identità, questa crisi è anche figlia diretta della globalizzazione. Si parla della globalizzazione, per tanti anni l'abbiamo licenziata, abbiamo detto che era una bella cosa, e lo è, e lo è perché è giusto che ci sia un mondo aperto in cui le merci possono circolare più o meno liberamente, in cui i servizi possono circolare liberamente, un mondo attraverso il quale è facile viaggiare, la circolazione delle idee. Però è anche vero che dal punto di vista economico la globalizzazione negli ultimi anni ha portato a molti aspetti negativi. Adesso da qualche tempo finalmente si comincia a parlare delle diseguaglianze della globalizzazione, di una classe media che sparisce sempre di più, della povertà che aumenta, di quel famoso 1% di ricchi che hanno le risorse finanziarie e i soldi di tutto il resto del restante 99%. È stato un processo abbastanza veloce per i tempi della storia, ma abbastanza lento per i tempi della nostra vita. Il processo che è cominciato negli anni 70, negli anni 80, ha due artifici che sono, apparentemente la prendo un po' a lontano ma arriviamo a dunque perché la crisi economica è al centro di tutte le nostre crisi politiche, la crisi dei migranti, la paura del terrorismo, la Brexit, il referendum in Catalogna, tutto questo nasce da una situazione di malessere che è sociale ed economica. Negli anni 70 e negli anni 80 si è deciso che il mondo dovesse e potesse andare verso un neoliberalismo economico con poche regole, soprattutto Ronald Reagan e Margaret Thatcher sono i grandi autori di questa rivoluzione dell'economia, i sindacati hanno sempre, hanno perso sempre più peso, le aziende hanno sempre avuto più mano libera nel muoversi, sempre più facilità di licenziamenti, sempre meno tutela dei lavoratori in nome di un'idea e l'idea è che se c'è un'elite ricca, questa ricchezza in maniera automatica si potrà propagarsi al resto della società. In inglese viene chiamata la teoria dello scocciolamento, un termine abbastanza brutto, ma è questo che è stato ipotizzato da gli economisti americani che sono la base di queste idee. Questo ha portato a dei cambiamenti abbastanza netti che hanno preso molta velocità negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni e il risultato è quello che vediamo adesso, un mondo industriale che ha molta libertà nel prendere decisioni, quelli che una volta chiamavano i lavoratori, adesso la parola abbiamo fatto di moda, che però hanno sempre meno diritti, un sindacato che ha perso il potere, grandi gruppi multinazionali che si muovono per il mondo, dove magari si pagano meno tasse, il risultato è che abbiamo una classe media che si è ridotta, che è sempre più povera, una classe della fascia dei poveri che è aumentata e l'1% dei ricchi che è sempre più ricco. Allora bisogna partire da questa idea dell'economia perché poi l'economia è la base di tutti gli sviluppi ai quali stiamo assistendo. Il risultato è che in Europa in questo momento abbiamo una disoccupazione che viaggia intorno al 12-13% e una disoccupazione giovanile che in alcuni paesi come l'Italia ha raggiunto quasi il 40% che vuol dire che circa un giovane su due non ha lavoro o non riesce a trovare lavoro e poi è in aumento il numero dei giovani che non cercano più lavoro perché non hanno speranza di trovare. Questo è un po' uno spaccato in maniera grossolana della società europea dal punto di vista economico. Ma è molto importante per parlare poi dei migranti, del terrorismo, del Brexit e dei problemi attuali, cercare di capire cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione. È molto importante capire qual è stata la dottrina economica che l'Unione Europea ha adottato di fronte a questa crisi. Come voi sapete la crisi è nata nel 2007, nel 2008, è nata negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti che non è colpa degli europei, ma non è colpa degli Stati Uniti perché lì c'è stata una delle tante bolle immobiliari che è esplosa. Come voi sapete negli Stati Uniti è possibile acquistare una casa, su quella casa aprire più di un muco, più di un prestito e il proprietario che è una casa si trova in mano a un valore virtuale di denaro che 5, 6, 7 volte è il valore reale dell'immobile. Si creano così delle bolle immobiliari, si è creata una bolle immobiliare che esplosa improvvisamente, un crollo per i prezzi delle case, fatto crollare tutta l'economia che riguardava questo settore, come un virus si è propagata tutta l'economia americana da una crisi economica diventata da una crisi sociale, una disoccupazione e nel mondo della globalizzazione, questo è uno degli effetti negativi, la crisi è arrivata direttamente anche in Europa. Questo è stato fatto un errore fondamentale, i primi 10 minuti saranno un po' di economia, ma sono un po' noiosi, poi parliamo delle crisi, dei problemi che abbiamo ma nasce tutto da qua, quindi è importante capire qual è stato l'errore fondamentale dell'Europa. In questo momento difficile, 2007-2008, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno preso due decisioni completamente opposte. Per cercare di uscire fuori da questa crisi economica gli Stati Uniti hanno deciso di buttare soldi sul mercato, si dice iniettare liquidità. La banca centrale americana ha cominciato a comprare titoli di Stato di tutte le aziende americane facendo risalire il mercato, facendo crescere di nuovo l'economia e nel momento in cui le aziende hanno ricominciato a creare prodotti, hanno ricominciato ad assumere persone per produrre questi prodotti, queste persone hanno cominciato a dare uno stipendio, hanno ricominciato a spendere, hanno ricominciato a comprare quei prodotti e si è creato questo circolo virtuoso che manda avanti l'economia di mercato. Che ci piaccia o no, non è questa la sede per dirlo, noi viviamo in un mondo che è regolato dall'economia capitalistica di mercato. Ci sono 4-5 paesi che ancora resistono ma dal fine della guerra e poi l'economia di mercato con tutti i suoi benefici, tutti i suoi difetti è l'economia, è la dottrina economica di riferimento per tutti quanti e va avanti soltanto se cresce, l'economia deve crescere, deve produrre costi di lavoro, deve produrre, deve vendere. Questo è quello che è stato fatto negli Stati Uniti, qual è il rovescio della medaglia di tutto questo? Il rovescio della medaglia è che se la banca è una banca centrale con capitoli di Stato, se un governo fa investimenti pubblici per costruire ponti, per scuola, spedale, casa, ferrovia, si indebita e quindi l'effetto immediato collaterale è stata una crescita esponenziale del deficit degli Stati Uniti e del debito americano. L'Europa ha fatto l'esatto contrario, l'Europa ha deciso di salvaguardare il deficit del debito, non voleva che avere debiti e quindi non ha fatto investimenti. Avete sentito parlare di una politica del rigore, la politica dell'austerio, stanno 7-8 anni che va avanti questo dibattito in maniera sterile in Europa. Il problema è che l'Unione Europea non è gli Stati Uniti, l'Unione Europea non è ancora una federazione, è una costruzione a metà del guado, siamo a metà della strada, è una costruzione incompleta, non esiste ancora una politica estera comune, una politica di sicurezza comune, una politica sui migranti comuni, ora ne parliamo. Per cui da un lato l'Unione Europea non ha gli strumenti per fare quello che hanno fatto gli Stati Uniti, ma soprattutto non ha né la volontà né il coraggio perché, diciamo le cose come stanno, tanto siamo fra di noi, i paesi europei ancora non si fidano gli uni degli altri. Vi ricorderete la crisi della Grecia, il fondo monetario, la banca centrale europea che sono andati di fatto a commissariare la Grecia e per dare aiuti a un paese che stava morendo hanno imposto dei sacrifici, la cosiddetta politica del rigore della Stati Uniti. Per cui gli Stati Uniti hanno preso una strada, quella di iniettare soldi nel sistema, ma facendo aumentare il debito e il deficit, l'Unione Europea ha deciso di lasciare che le cose andassero come dovevano andare, ma mantenendo il deficit e il debito basso. È un po' il discorso delle nostre famiglie, no? Ognuno di noi ha una famiglia, una moglie, dei figli, una casa, hai mutuo da pagare, prestiti. Se entrano 1000 euro in casa, entrano di più spero, ma insomma, se entrano 1000 euro, facciamo 1000 euro per 5 persone, queste 5 persone ne spendono 1200, 1500, 2000, 3000, 1000, 1000, è chiaro che il debito della famiglia ha un po'. Questo è stato il pensiero, in fondo alla detta proprio in maniera molto grezza dell'Unione Europea. Il problema è che l'Unione Europea non è una semplice famiglia, è qualcosa di diverso. Con il seno del poi avevano ragione gli americani, perché gli americani in America l'economia si è ripresa, ha cominciato a correre e aumentando il PIB, il prodotto interno rotto degli Stati Uniti, automaticamente è diminuito il deficit del debito. Quindi alla fine questa grossa macchina dell'economia che ha corso corso, alla fine è riuscita a riabbassare il deficit del debito. Si chiama, c'è un economista inglese che si chiamava Keynes che diceva che bisogna fare così e questa è stata una ricetta, Keynes che si chiamava che gli Stati Uniti ha oggi. L'Europa non ha fatto investimenti, ha avuto debiti qualcuno più, qualcuno meno, bassi, deficit sotto controllo, ma il problema è che la mancanza di investimenti pubblici ha fatto sì che l'economia europea ancora non si sia ripresa e che ci sia ancora un problema economico importante in Europa. Questo lungo discorso per dire che i problemi che abbiamo adesso derivano fondamentalmente da questo. Perché in un'Unione Europea che ha circa 500 milioni di abitanti, che potenzialmente potrebbe essere la più grande economia del mondo, superiore a quella degli Stati Uniti e superiore anche a quella della Cina, ma non lo è. La mancanza di investimenti ha portato a trasformare, a la crisi economica in una crisi di identità, in una crisi sociale. Se un giovane cerca lavoro per 2, 3, 4 anni e non lo trova, se una famiglia non riesce ad andare avanti perché nel frattempo gli stipendi si abbassano sempre di più, perché le aziende non assumono, perché le aziende sono costrette a fare sacrifici, alla fine la crisi economica diventa una crisi sociale e anche una crisi di identità perché alla fine, e veniamo adesso al populismo, ai migranti, al terrorismo, alla prezza, alla fine ci si comincia a chiedere, a fare la domanda che si fanno tutti in Europa da tanti anni. Ma conviene davvero stare nell'Unione Europea? Perché dovrei continuare a essere un cittadino europeo? Forse non è meglio tornare indietro, è quello che hanno fatto in Iglesi, ma anche qua in Italia qualcuno comincia a dire che non è meglio tornare alla lira, non è meglio uscire fuori dall'erego e lo dicono in tutti i paesi. La mia risposta è no, che non conviene, però io devo convincere, io dico quello che penso e vi faccio alcuni esempi. Alcuni di noi, penso, si possono ricordare benissimo come era la situazione quando c'era la lira, il livello dell'inflazione, adesso no, però c'è il problema opposto, il problema della deflazione, che però è stata superata. L'inflazione è una malattia terribile che ha costretto l'Italia negli anni 70 e negli anni 80 a fare dei sacrifici enormi. I prestiti bancari e i mutui erano altissimi, naturalmente il prestito, il prestito di banco mutuo si ottiene a tassi che sono molto vicini allo zero, quando si andava all'8, al 9, al 10%, 30, 25 o 30 anni fa. Questo è il merito dell'euro, perché con tutti i difetti, con tutte le cose brutte, come ho detto dell'Europa, l'euro è una moneta fortissima, è una moneta stabile e per la base di l'economia avere una moneta forte e stabile è fondamentale. La crisi economica passerà, vi sicuro che passerà, non so quanto tempo ci metterà, non so in quale condizione usciremo fuori, ma passerà, è già cominciato a passare, ci sono dei segnali di ripresa dell'economia, non è ancora sufficiente e questi segnali valgono soltanto per gli accatemici o per i politici che in tutti i paesi, non solo in Italia, in tutti i paesi dicono, avete visto siamo distrutti, 0,8, 1,1, il nostro paese si è ripreso, peccato che però sia solo sulla carta, perché questa ripresa di sistema non è ancora abbastanza forte da incidere davvero nelle nostre vite di tutti i giorni, non è ancora abbastanza forte da permettere all'azienda di assumere e aumentare gli stipendi, non consente di creare nuovi posti di lavoro, per cui noi ancora non ce ne accorgiamo, molti di noi ancora sentono la crisi economica, abbiamo questa sensazione che le cose non vanno bene dal punto di vista economico. Questa situazione di fragilità, di precarietà, di poca speranza del futuro, che nasce da scelte economiche sbagliate, nasce dal mondo in cui viviamo e dalle scelte economiche che sono state fatte, ha portato tutta una serie di problemi, che sono i problemi con i quali noi ci confrontiamo tutti i giorni. Maccanza di una vera identità europea, crescita dei populisti, maccanza di una politica migratoria degna di questo nome, rifiuto dei migranti, paura del terrorismo, del terrorismo di stampo islamico, tant'è vero che un paese, la Breva e la Gran Bretagna se ne sta andando e addirittura una regione spagnola, la Catalogna, ha chiesto di separarsi dalla Spagna, cosa che non accadrà mai? Ma ci hanno provato. I populisti. Ci sono tanti partiti in Europa che cavalcano questa paura, questo senso di precarietà, questo senso di mancanza di prospettive del futuro. E la storia ci insegna che poi, nei momenti storici in cui l'economia va male, in cui ci sono poche speranze, questi partiti prendono piedi, è normale, è umano, tutti noi abbiamo paura, tutti noi abbiamo un figlio per il quale abbiamo paura del suo futuro, abbiamo paura del nostro presente, abbiamo delle scadenze economiche, per cui si cerca un rifugio. Nelle elezioni francesi ha vinto Macron, il nuovo presidente. Macron per vincere ha dovuto combattere contro un partito populista molto forte e molto preparato, che è il forno nazionale di Marine Le Pen. Ha vinto Macron, io dico per fortuna. tutti hanno, tutti hanno brindato, ma in realtà Marine Le Pen ha preso più voti a questa elezione di quanto ne avesse presi nelle elezioni precedenti. Se voi guardate, la scena di Marine Le Pen è sempre in crescita. Poi può darsi che il suo ciclo politico sia finito, il suo personale ciclo politico, perché comunque sulla scena da molti anni. Può darsi che il front nazionale decide di avere un altro leader, ma i francesi che vota per il front nazionale sono aumentati alle ultime elezioni, non sono tenuti. Poi per fortuna Macron ha vinto. Ma che cosa ha fatto Macron per vincere queste elezioni? Si è inventato un nuovo partito. E guardate che la Francia è un paese molto strutturato, in cui ci sono due partiti con delle grandissime tradizioni, un partito di centro-destra e un partito di centro-sinistra, con grande storia, tutti e due con grande tradizione, ma tutti e due sono andati in crisi. Sono andati in crisi per questo motivo, perché la gente, i cittadini hanno paura e cercano qualcosa di nuovo, qualcuno che dia loro speranze. E non lo trovavano né nel centro-destra né nel centro-sinistra, né nei repubblicani né nei socialisti. Vi ricordate il precedente Presidente Francesco, con l'anno, è uscito con sondaggi che gli davano un 10% di gradimento, perché non sia un record negativo nella storia del mondo, dei Presidenti, stiamo parlando della Francia, che è un partito che ha una grandissima storia. Macrocia ha dovuto inventare un nuovo partito, l'ha chiamato In Marcia, in pochi mesi, e ha vinto le elezioni, perché comunque la Francia è un paese che ha una tradizione europeista e ha dato fiducia a Macro. Ma non è finita, il front nazionale continua ad andare a marco. L'Olanda è stata sottovalutata, ma l'Olanda è uno dei sei paesi fondatori dell'Unione Europea, è un paese che è stato fondamentale per la storia dell'Unione Europea, è un paese che noi abbiamo conosciuto per la sua tolleranza, per i suoi livelli di democrazia interna, per la sua capacità di accordi, è un paese che si è completamente trasformato. Il partito di Wilders, che è arrivato secondo alle elezioni, è un partito xenofobo, con delle venature vagamente naziste addirittura, ed è un partito che è andato molto bene all'elezione. E anche qui abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, perché hanno vinto, ha vinto Ruth, che è esponente di un partito democratico, ma se voi guardate i voti di Wilders ha perso le elezioni, ma i suoi voti sono aumentati rispetto alle elezioni precedenti, per cui la storia dei partiti populisti non è ancora finita. A ricordarcelo ci stava Brexit. Hanno deciso gli inglesi di uscire dall'Unione Europea, fondamentalmente per la crisi economica, ne abbiamo parlato, è abbato di tutto quanto. Per la paura di nuove ondate di immigrazione, non volevano più immigrati dall'Unione Europea e non volevano che arrivassero nuovi lavoratori in Inghilterra. Allora, questo è un esempio chiarissimo di dove può portare la paura, di dove può portare una crisi economica, la mancanza di speranza e la mancanza di prospettiva. Adesso voglio fare paragoni, però noi non dobbiamo mai dimenticarci che sia il nazismo sia il fascismo non hanno fatto i propri di Stato, sono andati al potere con la lotta popolare, poi quando sono andati al potere hanno tolto l'emocrazia e non si è più potato e sono diventati delle dittature terribili che hanno fatto delle tragedie, delle telefonie, delle nuove, ma sono andati al potere anche grazie ai cittadini che volevano un cambiamento. Il nazismo ha dato un potere per la più profonda attrice economica che ha colpito la Germania nella sua storia, la presidivana, l'inflazione calottante. Per cui questo è quello che dobbiamo ricordare. Allora, la Brexit è abbastanza significativa perché la Gran Bretagna è un grandissimo paese, è stato un grande impera, ha conquistato il mondo, in tutto il mondo si parla inglese, è un paese punto di riferimento, grandissima cultura, grandissimi scrittori, grandissimi artisti, grandissimi scienziati, è un paese simbolo della democrazia, la Gran Bretagna. Chi può negare? Eppure hanno votato con la pancia l'inglese su delle basi inesistenti. Ci sono in Gran Bretagna 6 milioni di cittadini europei che lavorano in Gran Bretagna e la Gran Bretagna se questi 6 milioni di cittadini europei, scusate 3 milioni, 3 milioni di cui 600 mila italiani. Domani andrassero io, probabilmente alcuni servizi essenziali si fermerebbero, gli ospedali, le scuole, potrebbero smettere di funzionare perché questi 3 milioni di cittadini europei danno un contributo fondamentale. L'immigrazione non esiste, noi stiamo parlando di alcune decine di migliaia di persone che hanno cercato di raggiungere la Gran Bretagna, dell'immigrazione di migranti. La storica immigrazione che c'è verso la Gran Bretagna è un'immigrazione che proviene dall'India, dal Pakistan, dal Bangladesh per motivazioni storiche, per cui la Brexit è stata un grande avvalido e credo, mi dispiace molto, che gli inglesi la pagheranno dal punto di vista economico perché saranno probabilmente costretti a uscire dal mercato unico. Adesso si parla male dell'Unione Europea, sopra la domanda anch'io in qualche modo, ma l'Unione Europea è l'unica alternativa che abbiamo per il futuro. A volte noi ci rendiamo conto, noi siamo tutti cittadini europei, votiamo per il Parlamento Europeo, mandiamo i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo, le leggi del Parlamento Europeo diventano in maniera automatica le nostre leggi nazionali perché il nostro Parlamento le ratifica quasi in automatico e sono le leggi che regolano la vita dei nostri giorni, tutti i giorni. Siamo tutti cittadini europei, profondamente, non ce ne rendiamo conto. Noi possiamo prendere un aereo e andare a Parigi senza mostrare il passaporto, la danza, da dove vogliamo andare. Abbiamo una moneta unica che ci aumenta molto più di quanto pensiamo. Abbiamo dei valori, dei principi, viviamo in un osi di democrazia, di benessere, di solidarietà e ci sono alcune facilitazioni di cui noi non siamo consapevoli e di cui forse neanche i cittadini inglesi hanno votato per la prezzi. Allora, il mercato unico vuol dire che non si pagano tassi e tasse all'interno dei paesi per lo scambio delle merci. Oggi è stato a una scuola qui a Loretto e ho fatto un esempio a un ragazzo che ha detto quanto l'hai pagata questa felpa? L'hai detto 35 euro. Se non ci fosse stato il mercato unico, l'hai pagata probabilmente 45 euro perché il produttore di quella felpa avrebbe magari dovuto pagare i tassi, le tassi o i tassi per il materiale che ha comprato per pagare. C'è tutto un giro commerciale ed economico, un movimento libero all'incarno dell'Unione Europea che ci facilita la vita e di cui noi non siamo consapevoli. Migranti, faccio veloce perché poi abbiamo un po' di rinforzare. Migranti, anche qui, la storia di migrante è una storia molto difficile da analizzare perché ci sono due aspetti. Un aspetto è, lo dicevo anche ai ragazzi, oggi a Liceo di Loretto, seguendo da Buenos Aires il 50% dei cittadini ha un cognome italiano, seguendo da New York non i 50, ma il 25% la dirigente. Ho fatto l'esempio di un quartiere di Sitney di cui poco si conoscono l'esistenza, in cui si parla triestino, perché all'inizio del Novecento la Trieste partiva, l'Italia era stato un paese povero, l'Europa è stata povera, siamo stati un paese di migrazione anche noi. Partiva da questi triestini, in cerca di fortuna, andavano a Sitney e c'è ancora questi quartieri in cui si parla triestino. Si parla il triestino di un secolo fa, che è diverso da quello di oggi, il mondo è pieno di italiani, è pieno di spagnoli, è pieno di irlandesi, se andate negli Stati Uniti, trovate il 20-25% di cittadini americani che hanno con un uomo irlandese, è pieno di polacchi, è pieno di europei, secondo me, quando l'Europa era povera. La storia dell'Europa è una storia di sangue e di guerra, gli orari sono sempre combattuti, siamo il popolo più guerra fondata, siamo il popolo, sì, il popolo in tutti i modi possibili, soprattutto in due paesi, Francia e Germania. La prima metà del Novecento è una pagina assurda, folle della storia, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, il loro caso. Quando dopo il secondo guerra mondiale è stato deciso di bloccare questa deriva sanguinaria dell'Europa, è stato deciso di mettere insieme i testici dei popoli europei e ha funzionato, perché? Alla fine del secondo guerra mondiale è oggi, non ci sono più state guerre, però, nell'Unione Europea, poi si fa delle guerre parcaniche, certo, patrosi, nuovo genocidio, fredrezza, ma non facevano parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea funziona, c'è pace qua. Guardate, se voi andate in giro per il mondo, prendete la cartina geografica, Siria, Iraq, Afghanistan, Corea del Nord, Africa, Centro Africa, la guerra civile. Ci sono pochi posti dove c'è una pace che dura da 70 anni. Allora, migranti, ci sono milioni di persone che vogliono arrivare qua, perché vengono da paesi dove ci sono quei conflitti, non c'è rispetto dei diritti umani, non c'è democrazia, non c'è paesi senza democrazia, da paesi in cui non c'è lavori, in cui si muore lì. E perché vogliono venire tutti qua? Questa è la domanda del governo forporci. Perché questo è un posto dove le cose tutto sommato funzionano, dove c'è la pace, la democrazia, la libertà. Certo, non è un periodo facile, questo è un periodo difficile per tutti, abbiamo cominciato per una totale economia, ma comunque rimane il posto migliore del mondo dove vivere. Perché in nessun altro posto troviamo la democrazia come c'è in Europa, la democrazia americana, la democrazia di razza. C'è la pena di morte, si va in giro la postola, dove c'è la libertà di espressione. Abbiamo qualche problema in Polonia, in Ungheria, e questo è un altro effetto collaterale della crisi economica, del malessere, della voglia di richiudersi, dell'egoismo, del guardare a se stessi perché si ha paura, è anche un po' di garanzia. Abbiamo qualche problema in alcuni paesi, ma c'è libertà di espressione, libertà di stampa, i giudici sono liberi, tutto questo non si trova nell'interno, non si trova sempre, dappertutto. Allora i migranti c'è questo aspetto della solidarietà che è una delle basi, fondamenti, dei valori dei principi europei, che viene un po' a mancare, perché l'Europa, l'Unione Europea, è un prodotto, un esperimento, cominciato 60 anni fa, ma che ancora non è finito, non c'è ancora un'Europa politica. Ognuno ha un po' per conto suo, abbiamo ancora degli egoismi fortissimi, gli stati nazionali esistono ancora in Europa, per cui non riusciamo a dividerci c'è qualche decina di migliaia di migranti che sono arrivati all'Arpedusa, hanno costruito un muro in un'Operia, hanno costruito un muro in un'Operia, lo volevano fare anche a un premio, ma per fortuna non l'hanno fatto. Ci siamo un po' dimenticati che siamo stati poveri e che in altri paesi ci hanno accorto. Quindi questo è un punto. L'altro punto è, ma siamo capaci tecnicamente di ricevere milioni di persone? No, perché una cosa è la solidarietà e dobbiamo avere, una cosa è aiutare e dobbiamo aiutare, ma non possiamo rimanere passivi, come ha fatto l'Unione Europea, aspettare che arrivino milioni di persone, dove diventiamo? Come ha fatto l'Unione Europea? Adesso l'Unione Europea comincia a ragionare su questo aspetto e sta per la prima volta facendo i passi giusti. Ci vorranno 10-15 anni per avere risultati, ma cominciano a ragionare finalmente da Unione Europea e non più da singoli paesi, o meno da con i suoi turisti. Hanno fatto un vertice ad Abigia, si faranno degli accordi economici, si faranno degli investimenti, le aziende europee andranno nei paesi africani, nel medio ambiente, creeranno delle scuole, cercheranno di investire per creare i posti di lavoro, perché questo è l'unico modo per uscirne vivi tutti insieme, noi europei, noi africani, noi asiatici, perché questa cosa o si risolve tutti insieme o non si risolve. Quindi si è per la prima volta intuito che bisogna avere una cooperazione, fare investimenti e cercare di aiutare le persone nei paesi dove vengono facendo crescere questi paesi. Nel frattempo bisogna ricordarsi che siamo l'Unione Europea, con i nostri valori, non si possono fare i blocchi navali davanti alla Ligia, non si può permettere che le persone muoiano nel Mediterraneo, non si possono fare gli accordi con gli scafisti che creano i campi di concentramento in Libia, non si possono fare accordi da 6 miliardi di euro con la Turchia di Erdogan che a sua volta ha creato qualcosa di molto simile a velare in Turchia. Terrorismo. Tutti abbiamo l'ordine del terrorismo, il terrorismo di stampo islamico, di ispirazione islamica. Allora il 99,9% periodico dei musulmani sono persone buone, vogliono vivere in pace, vogliono crearsi una famiglia, lavorare, tirare sui figli. Ma una piccola minoranza ha usato l'Islam in maniera spagliata e ha messo in piedi un terrorismo terribile. Cominciò a usare a brillare con l'Al-Qaeda e ha continuato al Bandari con l'Islam. Ma l'idea che il terrorismo arriva con i migranti, per far ridere anche un bambino di 6 anni, perché come voi sapete i terroristi che erano attaccati in Europa erano cittadini europei, erano nati nelle barbie di Parigi o a Molenberg o a qualche periferia di Birmingham o di Liverpool. Quindi il problema il terrorismo in Europa non si ferma perché crea costruendo muri, perché non è quello il punto. Il punto è che questi giovani musulmani di seconda o terza generazione, i cui nonni erano arrivati in Europa, sono nati e sono cresciuti in Europa, sono cittadini europei, non erano neanche dei buoni islami musulmani perché bevevano vino, non andavano in moschea, hanno usato l'Islam come strumento per la loro radicalizzazione. Per cui il problema è la marginalizzazione, è creare costi di lavoro, integrare queste persone, così si rompa il terrorismo. La brezza, è la brezza che abbiamo già parlato, è un segnale terribile, un segnale terribile perché è la prima volta che un paese europeo decide di uscire dall'Unione Europea. Abbiamo spiegato, abbiamo spiegato anche perché l'hanno fatto. Brevemente, come voi sapete abbiamo aggiunto l'accordo sui tre punti fondamentali che sono i diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna, se ci saranno dei problemi giuridici decideranno i tribunali inglesi, ma i cittadini europei, e questa è la vittoria dell'Europa, potranno fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea. E qui avvento l'Unione Europea, 1 a 0. Secondo punto, quanto la Gran Bretagna dovrà pagare per uscire? Tra i 45 e i 60 miliardi di Euro per i prossimi anni. Allora, ricordate che lo slogan di chi chiedeva di votare per la Brexit era «Vogliamo i nostri soldi indietro», staccamento è esattamente il contrario, la Gran Bretagna dovrà pagare l'Unione Europea perché si è impegnata fino a 2022 a rispettare gli impegni che si era detto, 2 a 0. Confine irlandese, questo è un aspetto del quale si è parlato poco, ma è fondamentale. Come voi sapete c'è stata una guerra civile, terrorismo dell'Ira, con gli unionisti che volevano che l'Irlanda di Norvo ci spasse per parte della Gran Bretagna, chi voleva tornare con l'Irlanda. Alla fine si è arrivata una pacificazione di qualche tipo, ma visto che la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea si sarebbe dovuto ricostruire confine tra il Gran Bretagna e il Norvo e l'Irlanda, vorrebbe dire far ripartire subito l'opera, per cui è stato chiesto dall'Unione Europea che il confine rimanesse così come è, e la Gran Bretagna devo dire accettata, però è una richiesta dell'Unione Europea, 3 a 0 con l'Unione Europea. Qua c'è un problema tecnico, 30 secondi, lo che voglio dire, se un paese esce dall'Unione Europea e dal mercato unico, come è possibile che una parte del suo confine non esista con l'Unione Europea? Perché l'Irlanda è Europa, per cui in qualche modo un pezzetto del Regno Unito, dell'Irlanda e dell'Irlanda, continuerà a rimanere nel mercato unico, con la libertà di movimento delle merci dei cittadini tra Irlanda, dell'Irlanda e l'Irlanda, questo potrebbe essere un problema perché a questo punto la Scozia, che già voleva, l'indipendenza potrebbe chiedere la stessa cosa, il Gallas, addirittura il sindaco di Londra ha detto va bene, allora anche in Londra c'è un'autostrada che gira intorno a Londra, che si chiami M21, va bene, allora tutto il territorio dentro questa autostrada che gira intorno, rimane nel mercato unico, questo potrebbe essere un problema, ma per ora è andato così. Il problema tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna e il futuro è che adesso bisogna decidere quali saranno le future relazioni della Gran Bretagna e dell'Unione Europea. Va bene, abbiamo deciso come uscite, ma che tipo di rapporto ci sarà? Se non dovesse esserci accordo entro un anno, entro il marzo del 2019, varrebbero le regole del WTO, del commercio internazionale, sarebbe devastante per la Gran Bretagna ma anche per l'Unione Europea perché bisognerebbe pagare dei tazzi enormi su tutte le merci, per cui bisognerà trovare il rapporto di qualche tipo. Ci sono vari modelli, vari paesi che non fanno parte dell'Unione Europea che hanno accordo di libero scambio, c'è la Norvegia per esempio, che fa di fatto parte del mercato unico, ma è un modello che non può essere accettato da Gran Bretagna perché manterrebbe la libertà di circolazione dei cittadini, cosa che di legge non può. C'è il modello canadese che invece è solo libertà di commercio ma riguarda solo le merci, mentre l'80% del commercio nella Gran Bretagna è fatto di servizi, banche, assicurazioni e questo sarà il problema del prossimo anno. Questi sono i problemi che abbiamo e sono enormi. Ci mettiamo l'ultimo problema e poi cerchiamo di capire come possiamo risolverli in 5 minuti. Il problema fondamentale è che l'Unione Europea non è attore globale di fronte alle grandi sfide di questi anni, la globalizzazione, il terrorismo, le migrazioni, la crisi economica. I paesi vanno ancora un po' ognuno per conto suo, non c'è una politica estera comune, non c'è una politica dell'immigrazione. Se un migrante arriva all'Ampedusa e dice io voglio asilo politico e voglio andare in Danimarca, non lo può fare perché l'erego europeo, l'accordo di Duprino prevede che l'unico paese che può trattare l'asilo politico sia il primo paese dove si arriva, ma se uno vuole l'asilo politico in Danimarca perché ha i parenti in Danimarca, la famiglia in Danimarca, come fa ad andare in Danimarca? C'è molto da lavorare, sono cose importanti, quindi il lavoro è il futuro. Intanto abbiamo un sacco di problemi da risolvere immediatamente in questi mesi all'interno del conflitto. In Germania abbiamo, c'è la Germania per eseguità, che ci piacciono la per eseguità del mondo europeo, non riescono a fare un governo, c'è questa crisi, questo malessere del quale parlavo prima, ha colpito anche la Germania che sembrava un paese solido, tutti davano per scontato con l'America, una volta l'interazione avrebbe creato nuovamente il governo con liberali e con liberali, non c'è riuscire, è la prima volta che succede la mortiania a questa parte, questo è un altro segnale come la brezza più importante, è la prima volta che succede, adesso sarà costretta probabilmente a negoziare con i socialdemocratici un nuovo governo di grande coalizione, ma vediamo a quali condizioni, vediamo se ce la faranno, ma comunque la Merkel che fino ad oggi è stato in questi anni l'unico vero politico importante che abbiamo avuto in Europa, capace di tenere la barba dritta in questi momenti difficili, in mezzo a questa tempesta, è in crisi e probabilmente stiamo assistendo all'epilogo della sua carriera politica, farà probabilmente ancora una volta il cancelliere della Germania ma poi finirà, per cui la situazione tedesca ci preoccupa, in Europa sono molto preoccupati delle elezioni italiane che si terranno forse a marzo, forse a prima, è ancora chiaro, qualche giornale c'è la quattro manzo, adesso io qua parlo di un'Unione Europea, non parlo di un'ordine interna, però è chiaro che la legge elettorale italiana non ci consente di avere, la nuova legge elettorale italiana non ci consente di avere grandi speranze su un governo, scegliete voi qua, centrodestra, centrosinistra, sopra, sopra, quello che vi piace, ma un governo che abbia una base parlamentare importante perché è una legge elettorale che rende difficile la creazione di un governo e di una maggioranza ancora, per cui ci sarà probabilmente un problema italiano, un problema tedesco all'interno dell'Unione Europea. Come se ne esce fuori? L'ultima cosa ancora, è chiaro che l'Unione Europea fatta da 28 paesi, che diventeranno 27, fa fatica ad andare avanti per gli egoismi nazionali, per gli interessi, perché non ha ancora la politica comune, perché è una costruzione ancora in itinere, ma c'è un altro problema che all'interno di questi 27, negli ultimi anni, proprio per i motivi di quali abbiamo parlato, la crisi economica, la paura, l'ignoranza, la vacanza di solidarietà, si è creato una biforcazione tra un gruppo di paesi che crede ancora all'Unione Europea e un gruppo di paesi che nell'Unione Europea non crede più e che nell'Unione Europea vuole soltanto prendere i fondi strutturali che l'Unione Europea. Siamo parlati soprattutto dei quattro paesi del gruppo di Visega, che sono la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovakia, questi paesi sono entrati nel 2004 in Europa, dopo la fine della guerra fredda, sono stati accolti come i fratelli che tornavano nella vecchia casa europea e si sono dimenticati all'improvviso della solidarietà che l'Europa ha costato nel loro confronto. La Polonia e l'Ungheria sono in una sezione molto preoccupante in cui i diritti umani non sempre sono rispettati, il livello di democrazia interna è un crollo verticale, per cui l'Unione Europea non può pensare di poter andare avanti a 27. Tutti insieme decidiamo qualcosa e la facciamo. Perché non si deciderà mai? Perché ci sarà sempre un numero di paesi che non vorrà fare la proposta. E' una zavorra che c'è nel piano dell'Europa. Per cui la soluzione che è stata prospettata tecnica per il futuro è quella, se lo scuso, la burocratica di Bruxelles, delle cooperazioni rafforzate. Le cooperazioni rafforzate sono previste fin dai trattati di Maastricht del 1992. In sintesi cosa dicono? Dicono che se all'interno dell'Unione Europea un gruppo di paesi, minimo 8 o 9 dipende dell'amministrazione, vogliono andare avanti, in un'iniziativa possono farlo. Gli altri paesi, quelli che non possono o che non vogliono, potranno aggiungersi successivamente. Questo è il futuro dell'Unione Europea. Piccoli gruppi di paesi che all'interno dell'Unione Europea andranno avanti con le loro iniziative. Faccio un esempio molto chiaro, si parla in questi giorni di creare un esercito europeo, la difesa europea, non si potrà mai fare il 27, ma un gruppo di paesi, 8, 9, 10, 12, decideranno di fare un esercito europeo e andranno avanti. Gli altri, quando vorranno, se potranno, seguiranno. E così per la politica dell'asilo, e così per la politica dell'immigrazione, e così per la politica della nuova governanza europea, come queste economiche europee, come voi sapete, non tutti i paesi dell'Unione Europea hanno l'euro, soltanto 19 sul ventrò. Quei 19 saranno probabilmente il nucleo centrale che svilupperà una serie di iniziative. Velocemente, perché non c'è tempo, il mondo va molto veloce, c'è la globalizzazione, c'è Donald Trump che ogni mattina si feglia e combina guai dall'altra parte del cielo, ma questi guai arrivano addosso a noi. Ci sta una guerra in Siria e probabilmente ce ne saranno altri negli orienti, perché c'è una tensione altissima tra paesi sunniti e paesi sciiti, tra Israele e Libano, ci sono milioni di impianti che arrivano, bisogna essere veloci, l'Unione Europea deve decidere di essere attore globale, lo potrà fare soltanto attraverso questa tecnica di piccoli gruppi che decideranno. In questo senso Trump ci ha aiutato, come la Brexit ci ha aiutato, perché per la prima volta l'Unione Europea si è resa conto, a che un paese può uscire dall'Unione Europea, è uno sciocco, un bravo per tutti, b che gli Stati Uniti possono decidere di non essere più gli alleati storici degli Stati Uniti, questo è un grande incidente che sta facendo, ha delle politiche sue che non prevedono un rapporto forte e un'ottoria, per cui l'Unione Europea è stata costretta in questi mesi ad accelerare le decisioni su alcune politiche comuni. Sono stati molto veloci, per esempio, tutto sulla politica di difesa, si sta andando avanti molto velocemente, perché è chiaro che per costruire una politica comuna, una politica di sicurezza, ci deve essere una identità di difesa europea che non esiste. E quindi c'è stata un'accelerazione, di questo dobbiamo paradossalmente ringraziare la Brexit e Trump. Alla fine di questo evento, io vorrei concludere dicendo che, ho parlato dei tanti difetti dell'Unione Europea, ce ne sono, però io credo che non ci sia alternativa. E vi ripeto, quelli che sono i principi e i valori fondanti dell'Unione Europea. Lo dicevo oggi ai ragazzi, lo dicevo, noi diamo questo contatto che la democrazia sia per sempre, non è così, la democrazia non è per sempre, vediamo adesso che la democrazia c'è ancora, la libertà di espressione, io sono giornalista, poi ci sono tanti giornalisti, la libertà di espressione, nonostante qualcuno faccia battute da evitare, esiste ancora, siamo liberi di dire quello che vogliamo, di pensare quello che vogliamo. è un periodo di economia difficile, ma questa è una cosa di prosperità e di benestero rispetto al resto del mondo. Quindi democrazia, libertà, pace, benestero, sono tutti valori e principi che li troviamo soltanto qui da noi. Quando parlo di ragazzi, con il giorno di dico sempre sì, è un periodo difficile, è vero, l'Unione Europea ci parla a piare, è vero, a Proxer ci sono in un buro che è vero, è tutto lento, è vero, a volte le volte non si capiscono, è tutto vero, è tutto vero, però non c'è un forse migliore ancora nel mondo, migliore dell'Unione Europea per tutti questi motivi che vi ho detto. Grazie.